Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e siamo tornati dopo un po' che non ne facevo di squad builder sul mio canale e quindi vi porto una squadra ragazzi, argento, ma veramente spettacolare, una squadra di longshotari giocatori che hanno un tiro dalla distanza portentoso, magari non proprio sulla carta, però in game dimostrano un tiro veramente micidiale soprattutto uno che comunque anche dalle statistiche è fortissimo, ma dopo lo vedremo, che è il giocatore con cui sono voluto partire diciamo però andiamo subito a parlare della squadra 4-4-1-1, come molte volte avete visto questo modulo sul mio canale, ripeto è uno dei miei preferiti 4 campionati diversi, se non sbaglio 5 nazionalità diverse, ma vabbè questo non importa, è una buona ibrida comunque, è molto divertente a utilizzare ho fatto solo 3 partite perché era davvero fortissimo, avrò fatto qualcosa come 15 gol in 3 partite comunque andiamo subito col portiere, anzi impostiamo argento, se no ci mettiamo 2 ore allora come portiere ho utilizzato Schmeichel che è veramente buono, ha delle ottime statistiche e soprattutto per quanto riguarda tuffo e riflessi poi prese e piazzamento non sono altissime, però comunque sia anche volendo con una chemistry style come per esempio ce l'ho io aggiustate e diventa veramente un portiere fortissimo poi come terzino destro ho utilizzato un altro tizio che avete visto un sacco di volte Dick Meyer perché è veramente forte, veloce ed è forte praticamente in tutto tranne che il tiro quindi veramente un ottimo giocatore, mi ha fatto forse anche un assist in 3 partite, però adesso non ricordo comunque sia uno dei migliori terzini che ci sono poi come difensore centrale di destra ho utilizzato un giocatore che non avevo ancora provato quest'anno un giocatore non raro che gioca in Premier League e se lo trovo mi farebbe piacere farvelo vedere Stones dell'Everton, veramente molto buono, mi è piaciuto tantissimo ha questo work, alto normale, però devo dire che non si sente l'alto in game, resta sempre in difesa a fare il suo lavoro non è velocissimo ma compensa la velocità del suo compagno di reparto che adesso vediamo comunque è molto solido difensivamente, mi è piaciuto e anche di testa è forte perché è molto alto poi appunto dicevo centrale di sinistra è un altro giocatore che abbiamo visto spesso cioè Okor che è davvero un gigante che non sembra tratto solo un 83, però è molto veloce, ha un fisico portentoso di testa è forte, in difesa difficilmente passa qualcosa, quindi un altro ottimo giocatore forse il miglior difensore centrale della Premier League e infine per completare la difesa come terzino di sinistra ho utilizzato Vangioni altro giocatore che non avevo mai provato quest'anno ma che dovevo fare perché è davvero fortissimo velocissimo, ha un ottimo tiro, tra l'altro ha un long shot veramente molto buono mi ha fatto anche un gol però purtroppo non l'ho registrato e comunque molto solido, molto forte in difesa e in fisico purtroppo anche lui, i due terzini hanno questo handicap del due piede debole però vabbè andiamo con il centro campo, troviamo subito come CC di destra altra pagina, quello qui, Cleverly che fa tripla intesa con Stones è strano che uso un giocatore come Cleverly in questo modulo però potevo utilizzare solo lui, diciamocelo proprio chiaramente però devo dire che mi è piaciuto tantissimo perché è un giocatore, diciamo una classica mezzala non fa molto schermo davanti alla difesa, non è molto forte in difesa però è un ottimo, diciamo, regista, un ottimo amministratore di palloni quando prende la palla lui, grazie al suo ottimo passaggio e comunque anche al suo discreto tiro riesce sempre a fare cose buonissime, quindi mi è piaciuto davvero questo giocatore compagno di reparto, compagno anche di squadra è il bosniaco che adesso ci apprestiamo a cercare ecco qui Besic, mi è piaciuto tantissimo ma soprattutto di questo giocatore mi è piaciuta l'aggressività adesso non so quant'è, non ho controllato però ogni volta era sempre lì a mordere le caviglie degli avversari per rubare il pallone ha riconquistato un milione di palloni in tre partite, ve lo giuro poi in difesa è fortissimo, in fisico è forte, non è altissimo cioè vabbè, un 80 è una buona altezza Worker è giusto per questo, diciamo, ruolo, per questo modulo ecco, ha questo problema del tiro che è un 49 ma mi ha fatto un long shot spettacolare che vedrete dopo nelle clip e anche un 58 di passaggio che non sta né in cielo né in terra perché sembra almeno 70, fa degli ottimi, ma ottimi passaggi poi, andiamo con l'esterno di destra che è Byster, classico link Dickmeyer Byster ne ho parlato spesso quest'anno di questo giocatore è fortissimo, ha un ottimo tiro, un ottimo long shot anche lui e fa tanti gol per essere un esterno ala e per concludere il centrocampo come esterno di sinistra Acosta, altro giocatore che ho portato qualche volta sul mio canale mi ha fatto due gol sicuramente, forse anche tre non mi ricordo molto bene e un assist quasi sicuramente o forse anche due, non mi ricordo comunque sia, è ottimo contropiedi, eccezionale con lui perché è velocissimo, agilissimo salta tutti gli avversari con grande facilità non è molto forte in fisico, questo lo si capisce però è davvero ottimo è anche un buon tiro, un ottimo tiro anzi poi allora, andiamo con l'attaccante prima ho voluto mettere Farigna ad ATT anche se lui è un trequartista ma rende davvero molto bene perché ha una grande finalizzazione un buon senso, diciamo, da attaccante un buon posizionamento non ha il work rate giusto per fare l'attaccante però non si sente tantissimo comunque sia, sì, delle volte forse manca proprio l'attaccante di peso che tiene sul pallone però Farigna è veramente completissimo lui lo può fare veramente alla perfezione mentre la stella di questa squadra ragazzi è questo giocatore che non si aspetta nessuno cioè Medunjanin mamma mia ragazzi questo è un mostro, provatelo perché non ve ne pentirete non è molto veloce e si sente in game però ha un buon fisico è alto 1,88 quindi è un ottimo fisico ha un ottimo dribbling per essere alto così tre stelle abilità comunque vanno bene fate le roulette, eccetera e le skill più, diciamo, comuni più tradizionali quattro stelle piede debole quindi destro e sinistro quasi uguali ottimo passaggio da cui derivano i quattro gol ma soprattutto un tiro spettacolare lo vedrete nelle clip mi ha fatto qualche long shot veramente incredibile davvero grandissimo grandissimo giocatore lui tra l'altro è un cc io l'ho spostato da team ma rende da dio ragazzi provatelo non ve ne pentirete ve lo garantisco comunque raga questa è la squadra squadra che segna tantissimo squadra molto divertente molto solida da utilizzare come sempre vi invito a lasciare un bel like 300 mi piace uscirà un nuovo video fatemi sempre sapere nei commenti se vi è piaciuta questa squadra se la proverete se l'avete provata cosa ne pensate e soprattutto consigliatemi qualche altra squadra da portare nei prossimi video con quali giocatori magari decidete voi come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video adesso vi lascio le clip bella raga ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!